Angelina Jolie Angelina Jolie, il segreto delle sue labbra perfette costa 4 dollari Considerata una delle donne più belle di Hollywood, Angelina Jolie non ha mai nascosto al pubblico i suoi segreti di bellezza. . Dopo aver parlato della famosa crema al caviale, assolutamente indicata per mantenere la pelle elastica e priva di qualunque imperfezione, la Jolie ha condiviso un altro piccolo trucco, sicuramente molto meno costoso, il suo magico balsamo per labbra carnose e perfette. Angelina Jolie ha il suo balsamo miracoloso. . Angelina Jolie ha sempre conquistato il suo pubblico non solo per il fisico scultorio e gli occhi carismatici, ma anche per le sue labbra carnose e morbide, ma qual è il suo segreto? Semplice, il balsamo biologico Menti Orange, della marca Shea Terra Organics. . 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